Ben ritrovati amici telespettatori con il TG Web Deliceto edizione giugno 2014. Apriamo questo video notiziario con l'avvenimento più rilevante ed atteso del mese di maggio, l'elezione del nuovo Consiglio Comunale di Deliceto per il quinquennio 2014-2019. Un evento di coinvolgimento generale dove tutta la popolazione, soprattutto nei piccoli centri, vive in modo frenetico per ragioni diverse. Dopo le prime strategie nella ricerca dei candidati per la formazione delle liste, l'attuazione dei programmi, gli attesi comizi elettorali, le richieste estenuanti di voto porta a porta, la corsa al seggio per esprimere il proprio e il coinvolgimento di altri nell'espressione di giudizio, finalmente, domenica 25, si è posta alla parola fine. Fine dei sogni e ambizioni da un lato, soddisfazioni e gioia dall'altra. Questo è il risvolto della competizione. A Deliceto, come ampiamente pubblicizzato, le liste in gara sono state due. La lista 1, Deliceto nel cuore, con candidato sindaco Antonio Montanino e la lista 2, Deliceto futuro comune, con candidato sindaco Pasquale Bizzarro. Al termine dello spoglio delle schede, come trasmesso in diretta streaming sul sito della Proloco dalla redazione dello staff del Tgweb Deliceto e seguito in diretta da quasi 4.000 persone, si sono avuti i seguenti risultati. Lista numero 1, Deliceto nel cuore, voti 1.389 e lista numero 2, Deliceto futuro comune, voti 1.251 In virtù di questi voti è risultata vincente la lista capeggiata dall'uscente sindaco Antonio Montanino con i consiglieri Mariano Laudisi, Pasquale Palumbo, Michele Biccarino, Di Flumeri Francesco Pio, Rocco Marinaccio, Rocco Gioia, Alessandro Capano e Paolo Troccola. Mentre della lista perdente faranno parte del Consiglio Comunale Pasquale Bizzarro, Lorenzo Infante, Rocchina Grosso e Giuseppe Cappiello. A tutti loro va l'augurio di buon lavoro. Ti abbiamo visto abbastanza tranquillo. Eri già sicuro di questo risultato o mica tanto? No, non eravamo sicuri del risultato, nel senso che credevamo di essere in vantaggio nei voti, ma comunque l'attenzione, voglio dire, fin quando poi il risultato non viene conclamato dai risultati di seggio, è chiaro che l'attenzione c'è sempre. Eravamo fiduciosi perché il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato enorme, è stato proficuo e sapevamo e riscontravamo l'affetto e l'avvicinanza di tutta la gente come atto di riconoscenza per quello che abbiamo fatto. Però, voglio dire, le competizioni sono tali in quanto sono competizioni, per cui la campagna elettorale è andata portata fino in fondo e ce l'abbiamo fatta. A un certo punto il distacco era davvero poco, lieve. C'è stato un momento di paura? No, assolutamente, perché sin dall'inizio abbiamo avuto un distacco che chiaramente poi è cresciuto progressivamente, ma non a mano che poi si provvedeva al completamento anche degli ospogli di tutte le sezioni. È chiaro che il punto è stato evidentemente all'inizio un po' più basso, ma poi è andato via via crescendo con la certezza del risultato. Un messaggio per il candidato dell'altra lista, il candidato Pasquale Bizzarro? Ma, va bene, da parte mia, diciamo, chiaramente c'è il pieno saluto a lui. Voglio dire, l'augurio è che comunque nell'ambito del prossimo Consiglio Comunale possa portare in ogni caso il suo contributo positivo al di là, voglio dire, di quelli che sono poi i risultati elettorali. Ecco, e adesso che succede? Ma, adesso succede che quindi proseguiamo quello che è il cammino che abbiamo intrapreso in questi anni. Abbiamo tante iniziative da portare al termine, tanti lavori in corso e tante altre attività da programmare. C'è stato qualche momento di scoraggiamento? No, noi eravamo convinti di quello che avevamo fatto innanzitutto in questi cinque anni di amministrazione. Abbiamo davvero faticato, anche fisicamente, per portare avanti questi cinque anni di amministrazione. Abbiamo attraversato momenti economici difficili. Però, credo che con la maestria di Antonio Montanino, che per noi è stato veramente un maestro della macchina amministrativa, abbiamo portato a termine tanti di quelli che erano le nostre progettualità e tantissime ne sono ancora in itinere. Io credo che la gente abbia apprezzato sicuramente questo grosso lavorio. e sicuramente il nostro stile, la nostra campagna elettorale, è basata su toni veramente pacati, illustrando solamente quelle che erano le cose fatte nel bene ma anche nel male, perché bisogna avere il coraggio di essere anche umili in questo. L'emozione è tanta. Essere riconfermati è più difficile di vincere, perché è lì che i cittadini ti giudicano sull'operato. Quindi, davvero merito a tutti i componenti della squadra, che ringrazio ad uno ad uno. Non li ho ancora salutati tutti, perché comunque giù c'era gente, ci siamo abbracciati in questa folla e questi amici che sono stati sempre vicini. E quindi io ringrazio ovviamente tutti, ringrazio anche la Proloco per questo servizio che ho offerto ai tanti amici che sono fuori e che saluto, perché ci stanno guardando. E complimenti, questo non perché siete qui, ma è un altro passo ulteriore della Proloco per la cittadinanza di Deliceto. Quindi, cosa dire, adesso è il momento di tirare le somme dei festeggiamenti, ma sappiamo che da domani ci aspetta già un duro lavoro, perché tante opere, come dicevo prima, sono in corso. Ok, giustamente la gente ha riconfermato, ha dato fiducia a voi, e quindi adesso bisogna lavorare, giustamente impegnarsi ancora di più. Assolutamente, la fiducia ci dà ancora più carica, era importante avere questa continuità, perché come abbiamo spiegato anche e illustrato nei comizi, ci sono ancora tanti cantieri da aprirsi su Deliceto per fare una Deliceto ancora più innovativa, ancora più efficiente. non stiamo qui a spiegare quali sono, perché forse lo faremo in un'altra sede, lo abbiamo fatto nella campagna elettorale, quindi la gente è a conoscenza di tutto quello che è stato lo scenario, almeno da qui altri due o tre anni. In ultimo, la stessa domanda che ho fatto ad Antonio, un messaggio agli amici dell'altra lista? No, sicuramente io devo complimentarmi e ringraziare, in primo luogo ringraziare, perché quest'anno è stato veramente difficile comporre le liste, perché c'è una sfiducia nella politica, è un momento economico difficile, e quindi non tutti hanno avuto questa aspirazione ad impattarsi in questa competizione così difficile. Quindi il merito va a Pasquale Bizzarro, sicuramente di aver condotto una lista, di averla tirata su e di aver tirato una buona campagna elettorale. Non ho avuto modo di incontrarlo, lo saluto in primis qui sul web, poi avremo modo ovviamente di congratularci personalmente. onore veramente all'altra lista, perché non era facile, specie come abbiamo saputo tutti quanti, con il cambio di legge che c'è stato in itinere, non ricordo, a 15-20 giorni dalla chiusura delle liste, abbiamo dovuto aggiungere altri 5 candidati, ed è stato veramente difficile sia per noi che per loro. Quindi davvero onore agli avversari. E' partito ufficialmente, con una conferenza di presentazione sabato 3 maggio, il progetto Deliceto Migrantes, organizzato dall'Associazione Proloco, in collaborazione con il Comune di Deliceto. Un omaggio all'immigrazione delicetana nel corso dei secoli. Il progetto prevede la realizzazione di un monumento, di un museo e delle pubblicazioni sul fenomeno migratorio. Sono intervenuti alla manifestazione il sindaco Antonio Montanino, il presidente del Galmeri Daunia Alberto Casoria, il presidente della Proloco Benvenuto Baldassarro, moderatore Michele Campanaro, direttore responsabile di Deliceto Tg Web. La associazione di Omede di Castelluccio dei Sauri, da molti anni, è impegnata nel recupero della storia degli emigranti, sia di Castelluccio dei Sauri che della provincia di Foggia. Presidente Paglia, com'è nata l'iniziativa per dedicarvi tanto spazio e tanto tempo a raccontare i nostri emigranti? Dunque, noi in realtà ci occupiamo dei emigranti in generale, cioè sia degli arrivi che delle partenze. Ci siamo in primo luogo cominciati a occupare degli arrivi. Castelluccio dei Sauri ha avuto un'ondata di emigrazione negli anni Ottanta, soprattutto per la raccolta dei pomodori. Abbiamo cominciato a cercare diari, esperienze, biografie, vissuti e ci siamo accorti che la nostra regione ha, per esempio, degli scrittori, pugliesi, innanzitutto americani, molto conosciuti negli Stati Uniti ma assolutamente sconosciuti in Italia. Per esempio, abbiamo scoperto che c'era un signore di Calitri, di Panni, che si chiama Antonio Calitri, che ha scritto dei libri. A Orta Nova c'era un altro scrittore, si chiamava Giuseppe Cautela. Abbiamo cominciato a tradurli, a ripubblicarli, perché ci sembrava importante recuperare un pezzo della storia della nostra emigrazione. Ormai sono quasi 15 anni che raccogliamo documenti, materiali, storie ed è un lavoro affascinante perché di materiale, purtroppo, ahimè, ce n'è molto perché la nostra storia è ricca di gente che emigra. Presidente Casario, anche il GAL Meridaunia dà molto spazio per quanto riguarda la storia sui nostri emigranti all'estero. Quali sono i progetti del GAL? Noi, non solo in questa programmazione, ma anche nelle scorse programmazioni, abbiamo sempre cercato di realizzare i progetti che tenessero vivere il rapporto con il popolo che è emigrato, che è andato via. Voglio ricordare che negli anni i nostri comuni sono stati completamente depauperati dalla forza vita e dalla forza lavoro. Quindi ogni volta che è possibile, attraverso i fondi europei, e l'abbiamo fatto in questa programmazione, attivare e riavviare questi rapporti, noi siamo felici di farlo. Ci potrebbe essere una sinergia tra il GAL e la Proloco, considerando il progetto che sta avvarando l'Associazione Turistica di Deliceto? Sicuramente sì, io sono qui stasera, oltre che per l'amicizia con Deliceto e con il Presidente della Proloco, ma perché è possibile questo binomio, è possibile collaborare. Noi siamo capofila del progetto dei pugliesi nel mondo, siamo stati spinti fortemente dall'assessore Elena Gentile ad attivare, voglio dire, lei ha voluto fortemente che fossimo noi capofila, perché già in passato abbiamo dato prova di lavorare bene su questi argomenti. Nel 2007, voglio ricordare, andammo in Canada, perché il GAL si aggiudicò un bando regionale che si chiamava Finestra sulla Puglia, e quando siamo stati lì a Toronto abbiamo incontrato tutte le comunità nostre, tutte e quante, le ho girate tutte, e c'è una voglia di rivedere i paesi nativi, lì sono già la terza, quarta generazione, e sarebbe bello, importante, voglio dire, fare in modo che i figli di questi nostri compaesani potessero tornare, magari non conoscono neanche il paese da cui è partito, non so, il nonno, la nonna, e quindi secondo me si può lavorare su questi temi. Progetto Migrantes, un progetto ambizioso per la Proloco, sicuramente con il supporto dell'amministrazione comunale sarebbe ancora più ambizioso? Certo, è un'iniziativa pregevole che la Proloco sta portando avanti con tenacia e con capabilità. Riteniamo che sia un'iniziativa importante perché consente di approfondire quello che è il fenomeno della migrazione che c'è stata chiaramente nel corso del tempo e vuole essere anche attraverso la realizzazione di un monumento, un momento di riconoscimento di quello che è il patrimonio storico e culturale della nostra comunità di Dicito e un momento chiaramente di gratitudine rispetto a chi per tante ragioni ha dovuto lasciare la nostra comunità e comunque si sente legata ad essa, diciamo, dalle situazioni e dalle storie. Per cui è un'iniziativa che rispetto alla quale chiaramente l'amministrazione comunale sarà a fianco proprio per chi appartiene alla storia della nostra cultura e quindi anche noi saremo per quanto possibile a fianco all'iniziativa, alla Proloco affinché questo intendimento possa giungere a compimento. Nei giorni 5, 6 e 7 maggio appuntamento con la fede e la tradizione una ricorrenza secolare per celebrare i santi padroni di Dicito il Beato Benvenuto da Gubbio e Maria Santissima dell'Olmitello con pellegrinaggio conclusivo presso i due santuari mariani dell'Olmitello e della Consolazione che puntualmente richiama e coinvolge l'intera comunità. Organizzato dall'Assessorato all'Urbanistica ed Attività Produttive del Comune di Deliceto giovedì 8 maggio presso la Sala Europa un incontro di presentazione del Geoportale Telematico Unificato Urbanistico Territoriale una base di conoscenza e condivisione delle informazioni territoriali un sistema fondato su una banca di dati cartografici catastali aggiornata trimestralmente. Sono intervenuti il Sindaco Antonio Montanino il Signore Alessandro Capano Assessore all'Urbanistica Perito Agrario a Pasquale Palumbo Assessore Annone e Attività Produttive Ingegner Salvatore Pizzi Dirigente OTC Francesco Nota Comandante dei Vigili Urbani Architetto Antonio De Maio Società Geovega Organizzato dal CSM Centro di Salute Mentale di Troia in collaborazione con la sede di Deliceto e i centri diurni Itaca di Troia e Arcobaleno di Deliceto sportivamente l'utopia possibile ovvero l'integrazione sociale attraverso gli scambi una tre giorni ricca di appuntamenti sportivi gastronomici, musicali e soprattutto sociali con il coinvolgimento di operatori e utenti provenienti da diverse località italiane ed estere Il dottor Pillo, responsabile del CSM di Troia a che edizione siamo con questo Sportivamente? Allora questa è la sesta edizione Sportivamente è il centro di salute mentale di Troia dico questo al fine di fugare ogni dubbio Sportivamente è un contenitore all'interno del quale ci sono tante cose la finalità è quella di una lotta allo stigma, alla discriminazione nel campo della salute mentale e delle persone affette C'è gente anche che arriva da fuori e non solo del territorio? Allora quest'anno il torneo internazionale di calcetto ha annoverato 19 gruppi c'è l'Albania, c'è il Belgio, c'è Trieste, c'è Urvieto, c'è Pesaro c'è Urbino, Vasto e così via quindi sono venuti da tante parti d'Italia anche dall'estero proprio per rimarcare questa cosa questa lotta, questa battaglia contro lo stigma Ecco, gli utenti come rispondono? Beh, rispondono alla grande nel senso che non si sentono utenti si sentono di giocarsi la partita fino in fondo che poi è la partita della vita la partita di esistere la partita di volere e di saper contare Ok, allora noi ringraziamo e buon proseguimento speriamo di rivederci anche in futuro Grazie, grazie a voi, sportivamente Sportivamente partecipa anche il centro di urno di Deliceto Dico bene? Sì, abbiamo una grande collaborazione noi due centri di urni Itaga di Troia e Arcobaleno di Deliceto è una collaborazione che va avanti da diversi anni e ogni anno il gruppo è sempre più consolidato è sempre più unito da un'unica mission che è quella di promuovere la persona in quanto tale e non in quanto portatore di una malattia ma in quanto persona e quindi con l'opportunità di vivere una vita con tutti i diritti civili Olio e vino su chi vivi della terra questo è il tema del seminario organizzato dall'Istituto Professionale Olivetti sede distaccata di Deliceto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Deliceto nella serata di venerdì 16 maggio presso la palestra della Scuola Primaria di Secondo Grado sono intervenuti Antonio Montanino, sindaco di Deliceto Rosa Manella, dirigente istituto comprensivo Margherita Pasquariello, responsabile del PON e la vicaria dell'Istituto Olivetti della sede distaccata di Deliceto Abbiamo assistito a un bellissimo convegno sull'olio e il vino com'è nato questo progetto? perché proprio l'olio e il vino? Sì, interessante come domanda infatti noi potevamo fare altro l'anno scorso abbiamo fatto la valorizzazione delle risorse dei 5 reliciti però già dall'anno scorso io dicevo dobbiamo valorizzare i 5 reliciti dobbiamo valorizzare l'olio e il vino iniziamo dall'olio e il vino ma non c'era stato spazio quest'anno subito siamo partiti in quarta con l'olio e il vino perché l'olio e il vino ha fatto di noi una civiltà quindi non dobbiamo più pensare come l'olio e il vino una produzione contadina che appartiene all'attività agricola ma dobbiamo pensare all'olio e il vino come una parte integrante della nostra cultura e quindi va valorizzata la produzione agricola perché insieme con il patrimonio artistico monumentale può fare di noi i primi nel mondo perché abbiamo le capacità ecco l'olio e il vino quindi per la promozione del territorio i giovani sono coinvolti in questo? i giovani noi cerchiamo di coinvolgerli quindi quando facciamo i seminari ce li portiamo dietro con i pullman e abbiamo avuto una bella sorpresa quando siamo andati a Vieste infatti i giovani facevano domande non ce le aspettavamo facevano mille domande erano interessati erano contenti applaudivano quindi da questo che cosa abbiamo potuto dedurre? che questa strada è una strada che parte dall'Europa viene a noi ma noi dobbiamo fare di questi progetti PON di queste occasioni europee dobbiamo fare un elemento primario per rilanciare la scuola la cultura il mondo giovanile le aziende gli enti locali perché tutti insieme dobbiamo ognuno nella sua specificità ognuno nella sua parte tutti insieme solo se prendiamo coscienza del nostro patrimonio tutti insieme noi possiamo eliminare la crisi così come tanto se ne parla noi se valorizziamo il nostro patrimonio non abbiamo nessuna crisi abbiamo tutte le carte in regola per lanciare il nostro territorio non ci manca nulla abbiamo quello che gli atti non hanno una cosa ci manca la coscienza di quello che siamo di conseguenza anche i programmi politici non mirano al territorio non mirano la valorizzazione del patrimonio di conseguenza non nascono i porti non nasce l'aeroporto e di conseguenza siamo tagliati fuori dai flussi turistici rimaniamo isolati per il potenziamento delle classi a tempo pieno della scuola primaria Alessandro Mazza di Deliceto sono stati effettuati nella mattinata di mercoledì 21 sul piazzale Bervedere dei giochi motori relativi ai progetti verso la primaria con l'esperta Cinzia Biadi e verso la secondaria a suon di musica con l'ausilio dei professori Cagliazza Sgambati e Puopolo sul nostro sito è disponibile un apposito video il castello normanno di Deliceto non solo location per set cinematografici ma anche location per matrimoni civili sono sempre più numerose le coppie che prediligono l'atmosfera e gli ambienti fiabeschi del nostro maniero per celebrare il giorno più importante della vita di coppia un'ulteriore riprova di utilizzazione e di valorizzazione del nostro monumento simbolo in ultimo una notizia dell'ultimora sarà inaugurata tra qualche giorno la ristrutturata Piazza Europa nel prossimo videogiornale immagini e interviste al riguardo vi invitiamo come sempre a seguire tutte le news dal nostro sito internet e se volete seguire minuto per minuto in diretta la vita dell'Icetana dal piazzale Belvedere 24 ore su 24 collegatevi con la nostra webcam seguitissima ed apprezzata iniziativa visualizzata da circa mille collegamenti giornalieri per questa edizione è tutto vi rimandiamo alle prossime news arrivederci a presto